Ciao a tutti, sono Giulia Viti. Oggi per il video di assistente sociale privato vi porto a Riotorto, una frazione di piombino. Riotorto ha una particolarità. Ha il mare e la campagna attaccati e quindi mi è sembrato il posto giusto per parlarvi delle nostre ambivalenze, ovvero quelle parti di noi che sono in contrasto e noi spesso ne ignoriamo almeno una, se non entrambe. Un esempio molto semplice possono essere le persone che vogliono ritenersi socievoli in ogni momento e che quindi si negano il piacere di stare da soli quando ne hanno voglia. Ci sono certamente tantissimi modi di affrontare questo contrasto anche a seconda di quanto è grande il problema. Io da coach, cioè da persona che si occupa di presente e futuro e di progetti orientati al futuro, oltre che al benessere nel qui e ora, vi darò una risposta rivoluzionaria. E che ci dice ora questa? Siate onesti con voi stessi. Quando sentite dentro di voi un forte contrasto, fisicamente sedetevi a un tavolo come se aveste voi stessi davanti e chiedetevi che cos'è che realmente volete. È certamente una pratica che richiede tempo, ma che può risolvere un sacco di piccoli malesseri che poi vanno ad accumularsi diventando malesseri più grandi. Grazie per avermi ascoltata, a presto!